Assessore, è stata confermata una vera e propria emergenza climatica? Sì, purtroppo sì. Io stamattina ho scritto come assessore regionale a tutti i sindaci della Regione Marche raccomandando la massima attenzione, la massima allerta e la massima comunicazione verso i cittadini che siano attenti a non accendere fuoche, a non fare barbecue, a non portare avanti iniziativa che possano compromettere la sicurezza dei nostri territori. I prossimi 15 giorni saranno terribili per quel che riguarda le temperature previste in forte aumento, non è prevista pioggia per tutto il mese di agosto, quindi anch'io mi permetto di fare un richiamo ad ognuno di voi che state ascoltando, massima attenzione, massima allerta e anche un richiamo forte per il minor consumo di acqua. Siamo anche in grande crisi idrica, stiamo riempendo il fiume Metauro dal quale preleviamo l'acqua potabile, la stiamo riempendo attraverso dei pozzi ubicati nell'entroterra. Purtroppo siamo alla completa emergenza, quindi un richiamo forte al minor consumo possibile di acqua e alla massima attenzione per quel che riguarda gli incendi sul territorio.